In Italia, i ragazzi, lo smogono, con le sedie rotte, in Italia, i ragazzi, lo smogono, con le sedie rotte, me lo smoglieremo di male. Io non ci voglio credere. Meno male che ci sei tu, Roberto. Sto tutto a stare. Io sono passata qua, tutto soddisfatto. Questi qua sono 20 pound per trasportare le mie cose. Io ho inventato un carrellino fatto di gravata, è semplice. Stai già lontano, gravata, fai no? Semplice. Agosto uscirà in tutti i negozi che è. È un progetto che porta davanti, vale un sacco, un sacco di cose. Adesso passo soddisfatto davanti agli abbudolamoli, avevano 20 pound. Aspetta che io ti riprendo mentre passi davanti a loro. Un capitale, un capitale. Sei soddisfatto? No, è un'unica mia nuova casa. Bel trasloco, eh? Ti senti solo tu? È efficace. Ormai il mio carrellino sono inseparato. Ha salvato la vita.